Berghel, tu sei venuto dal Kenya, sei stato ospite qui alla Stranieri, ospite a Perugia. Come ti sei trovato qui? Sono venuto in Italia il 13 gennaio 2016. Mi sono iscritto all'università per stranieri. Mi sono iscritto all'università per stranieri, per lingua italiana, durante 9 mesi ho fatto lingua fino al livello B2. Quando ho fatto la lingua ho trovato la città di Perugia, che è una città bellissima, che è una città più o meno come la mia città di Natale, Kenya, si chiama Kerugia. Quindi, ha detto, io trovo bene Perugia, per quello che non ho cambiato la città per studiare all'università. Mi sono iscritto all'università degli studi per fare il dipartimento di informatica e matematica. Io faccio laurea triunale in matematica.